Grazie a tutti. Di ricordare quei bel momenti che erano qua a Sanremo. Domani inaugurerà questa pista ciclabile, questa porzione di pista ciclabile. Non so se ha già avuto occasione di vedere questa importante opera, cosa ne pensa? Sì, è bellissimo. Penso che hanno fatto un grande lavoro perché ho visto qualche immagine. È veramente impressionante cosa hanno fatto per il ciclismo. È veramente una bella cosa. Sul piano sportivo un pronostico sulla Sanremo di domenica? È molto difficile perché Sanremo in questo momento, ma penso che in forma Sagan, Chiatowski, Cangellara. Peccato che non sia buono, però magari non si sa mai Cavendish, però è difficile dire. Si spera sempre di un italiano qua in Italia. C'è un nome secondo lei che potrebbe vincere? Ma in volata dipende un po' come va la corsa, no? Però sì, sono bel italiani. In questo momento, sulla distanza così, anche di Bali penso che dovrebbe fare bene per Sanremo.